20 milioni, Fabio, attenzione, il termine IOCA si riferisce a quale tra i seguenti stati unitensi? Fabio Ciotti, Biscardi, Paracadute, Aldo Biscardi, Aldo Biscardi, per 10 milioni lei conferma, è Aldo Biscardi, via! Bravissima, come fatti a seccare subito così? Non lo so, ho fatto un conto molto veloce, ho detto molto probabilmente saranno molto americani, anche se ci sono fatti veloci, ovvio però! Salvatore, domanda da 100 milioni, lei riesce a dire i 50 stati degli USA in meno di un minuto? Patena, no, sbagliato, potenza, grazie, arrivederci! Massimo, 200 milioni, attenzione, calcolando le torte di mele fatte nel 44, quante teste ha Enzo Biaggi? Una Una No, cambio Una Ci pensi bene, eh? Una Oddio, che vuoto Una Un vuoto 20 milioni, non è difficile, lascia No, è un vuoto, accetta la sua domanda La risposta è Burro Ma dove viene lei? Frenza Molta differenza E che dire? Irg Ciao Iscri Scri